Una due giorni di celebrazione in ricordo di Nicola Straniero, storica figura di un ragazzo eroe della nostra terra che cento anni fa, il 16 maggio 1916, nel fatto d'arme del Montesief donò la sua vita per la patria. A Berletta due intensi momenti per ricordare un concittadino, primo tra gli ufficiali berletani a ricevere il 9 dicembre 1916, con dispensa 105 del bollettino ufficiale del Ministero della Guerra, un'onorificenza militare della medaglia d'argento al valor militare. Un evento celebrativo, cominciato presso la Sala Rossa del Castello, con la presentazione del libro Nicola Straniero, un eroe della Grande Guerra, di Michele Grimaldi, responsabile della sezione Archivio di Stato di Berletta. Tra gli intervenuti, oltre all'autore del libro, i familiari di Nicola Straniero, anche il prefetto Clara Minerva, il professor Ugo Villani, ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari e l'editore Renato Russo. È un libro che il dottor Grimaldi ha voluto dedicare alla famiglia straniero dopo un'accurata ricerca storica. E noi della famiglia ne siamo entusiasti, orgogliosi e riconoscenti all'autore del libro, all'editore e alle autorità, alle istituzioni di Berletta che ci hanno consentito questo ricordo. Un libro nato dall'idea fortemente sostenuta dalla famiglia straniero di avvicinare la figura di Nicola Straniero alle nuove generazioni che la scuola è chiamata a educare e formare. È stata un'iniziativa molto particolare, diciamolo subito, è partita non da una istituzione ma da privati, dalla famiglia straniero. Un attaccamento, un amore familiare particolarissimo. Prima molto pudico, non avevano nessuna intenzione di divulgarlo. Ma poi, su mia insistenza, proprio perché in pochissimi conoscevano la figura di Nicola Straniero, si sono convinti non solo all'idea di far conoscere una corrispondenza molto toccante, ma anche di stampare un libro che, come prima indirizzo, è andato alle scuole perché la famiglia straniero desiderava che il loro congiunto venisse conosciuto in modo particolare dalle nuove generazioni. Termine dell'evento inaugurata una mostra di documenti che racconta la vita al fronte del sottotenente Nicola Straniero, gentilmente concessi dalla famiglia. Questa mattina, poi, il momento celebrativo è proseguito con un omaggio reso dal sindaco Pasquale Cascella, insieme ai parenti di straniero nella sede del comando di Polizia Municipale di Barletta, dove è collocata la lapide che lo ricorda. Era un omaggio doveroso, un omaggio doveroso a un dipendente comunale che da ragazzo, cento anni fa, aveva scelto di continuare a servire, non soltanto alla propria città, ma anche al proprio paese. Grazie. Grazie.